Siamo giunti alla quarta, buoni tre anni sul miglio, non corre una zacca, aveva l'otto, ne rimangono in sette, tribuna nobilitata dalla presenza di Antonio Di Nardo, Tony Young che ci è venuto a salutare, gli facciamo ancora i complimenti anche per Trieste, gran premio e altre corse, insomma, Tony Young è sempre lui, mezzo meccanico in movimento, ulterior vir, Vincenzo Villani in salchi, è il più gettonato, il 5 di galoppo, un beating griff, inizia a prendere velocità la macchina, si ritrae Ubaldo Par, gli altri bene a rete, via la macchina. Si lotta per il comando, dal centro Ucci, Charlie, Uruguay, Griff, l'errore di universo, allargo subito Ulteriorville, e Ulteriorville punta subito a chiedere strada, l'1 a tabellone, 13 e 3, il lancio gradatamente Villani e suo Torgatoville sopravanzano l'avversario e al completamento della piegata al comando. Si completano i 400 iniziali violenti, 28 e 4, e ora a lunga fila indiana con il leader che può amministrare i birilli e va a completare 600 molto spidi spidi, infatti 600 sul mio cronometro in 43 e mezzo. Cavalli che affrontano la piegata, Ulteriorville, poi Ucci, Charlie, Uruguay, si affaccia Ubaldo Par, si va al completamento del mezzo miglio iniziale. Mezzo miglio, 59 e 6 per il leader, Ubaldo si migliora gradatamente per linee esterne e il figlio di Ideale cerca l'aggancio di Ucci, Charlie, mentre Ulteriorville riparte. Chilometro nell'ordine dell'1 14 e 3, 500 alla meta, Ulteriorville in vantaggio, Ucci con all'argo Ubaldo. Cavalli che affrontano la curva finale, una di margine per il Targatoville, frazioni in 14 e mezzo fanno 1 28 e 9 3 quarti di miglio e l'el degrado B in vantaggio, poi Ucci con all'argo Ubaldo. Retta d'arrivo, Ulteriorville ha il comando, tenta lo stacco, Ucci, Charlie non lo perde di vista ma Ulteriorville è in vantaggio, Ucci si affaccia ma si affaccia anche il traguardo. Ultima chance di Ucci, palo vicino, di dentro va Uruguay ma sul palo, Ulteriorville si salva, doppio di el degrado B, doppio dei Villani, doppio di tutto e di più. 1 58 e 4, dottor Villani in cabina di regia, 1 e 53 in chiusura e mentre la figlia si fa onore in gentleman, sempre con el degrado B, lui in professionista si afferma sempre con el degrado B, seconda la grande Ucci, Charlie, ottimo per la prossima così Uruguay. Quindi i numeri 6, 3, 2, ulteriore Vittoria dei Villani con questo Ulteriorville. Unire lo studio.